Eccoci qua ragazzi, insieme adesso vogliamo fare i pronostici della dodicesima giornata di Serie A Di sabato ci sono già ben tre partite, iniziamo subito Alle tre c'è Napoli-Sassuolo, un Napoli che continua a stupire Non sa il significato sconfitta, non perde dall'anno scorso, se non sbaglio In Empoli-Napoli 3-2 In battuta in campionato e in battuta in Champions Primo in campionato e prima nei giorni di Champions League In Napoli è prima a 29 punti, invece Sassuolo che è ritornato alla vittoria settimana scorsa contro l'Elas Verona È nona a 15 punti Non è facile affrontare il Sassuolo, però questo Napoli ragazzi ha continuità e squadra Secondo me vincerà anche questa ingoleata 1 per i Napoli Andiamo alla partita alle 18, c'è Lecce-Juventus La Juventus che viene da una brutta eliminazione dai giorni di Champions League In campionato ha due vittorie consecutive È ottava, 19 punti Adesso deve fare un rimontone per entrare nelle prime quattro Ha una partita facile, però Lecce vuole fare una bella figura davanti ai propri tifosi Deve trovare la vittoria Sarà molto molto difficile per loro Però questa Juventus qua non è proprio imbattibile Però secondo me la Juve la porterà ma con tanta difficoltà 2 per la Juve Poi andiamo alla partita delle 8.45 Inter-Sampdoria Dejan Stankovic che ritorna a casa da avversario E ha ritornato alla vittoria, alla sua sample contro la Cremonese L'Inter ragazzi si è sbloccata totalmente Non è più l'Inter di inizio stagione È un Inter che sta accumulando punti importanti Per entrare in zona Champions Ma anche per provare a lottare per lo scudetto Questa Inter mi sta iniziando seriamente a far paura Secondo me vincerà l'Inter Andiamo alle partite di domani La partita di mezzogiorno Empoli-Atalanta Atalanta che viene da una sconfitta in casa contro la Lazio E anche l'Empoli viene da una sconfitta L'Atalanta è quarta 24 punti L'Empoli 12esimo a 11 punti L'Atalanta comunque è lì In zona Champions e meno 5 dal primo posto Secondo me ragazzi finirà 2 per la squadra di Giampiero Casperini Poi Cremonese-Udinese La partita delle 3 Cremonese che non riesce a trovare la sua prima vittoria in Serie A L'Udinese che è caduta nell'ultima giornata di campionato Contro il Torino Insomma ritornerà la vittoria La Cremonese ci spero che potrebbe trovare la sua prima vittoria Ma non penso in questa giornata 2 per l'Udinese Poi partita delle 3 Spezia-Fiorentina Una Fiorentina in crisi in campionato Tranne in Europa Peccato per la sconfitta nell'ultimo minuto contro l'Inter Però nessuno non si aspettava una Fiorentina così in crisi In campionato dopo 11 giornate Si trova a 14esima a 10 punti Se non vince questa ragazzi A mio avviso l'italiano Deve rischiare la panchina Lo Spezia si trova a 16esima A 9 punti Più 3 dalla zona retrocessione Italiano che ritorna a casa d'avversario La fronte Ragotti Come la Fiorentina vince Ma con tanta tanta difficoltà Questa Fiorentina non mi convince per nulla 2 per la Fiorentina Poi Lazio-Salernitana La Lazio raga A me Mi continua a convincere Io lo dico dall'inizio stagione Questa Lazio mi intriga molto Lì Tra le prime 4 Terza in classifica 24 punti A meno 5 Dal primo posto L'ho detto Anche tanto tempo fa Se devo scommettere Un outsider Per lo scodetto Ripuntere molto Sola Lazio La Salernitana Che ha ritrovato la vittoria Si trova a 11esima A 13 punti Ripartita molto meglio Rispetto l'anno scorso Nelle prime giornate di campionato Non è facile affrontare La Salernitana di Nicola Ma la Lazio Pensare anche La partita in Europa Per qualificarsi Ma ci avrà anche il derby Userà qualche riserva Ma vincerà Vincerà in goleata Vincerà la Lazio Poi andiamo Alla partita serale Torino-Milan Milan che continua A vincere A stare lì vicino a Napoli Per non farla sfuggire È seconda 26 punti Viene anche Da due vittorie Importantissime In goleata Tra Monza E Dinamo Zagaibra Il Torino Di Juric È una squadra Che mette in difficoltà Non è facile affrontarla In trasferta E vuole ancora stupire In questo campionato Insomma finisce X Pareggio Poi andiamo alle partite Di Lunidi Ci sono due partite Una alle 18 e mezza Che è Elas Verona E Roma L'Ellas Che cerca punti di salvezza Si trova a 19esima In classifica 5 punti La Roma Che viene Da una sconfitta Contro Contro Napoli E perde la posizione In Champions Quinta 22 punti Una partita Non da sottovoltare Per la squadra Di Jose Mourinho Verona Giocherà Per la vittoria A tutti i costi Vincerà la Roma Ma Non una passeggiata Poi La partita Delle 8 e 45 L'ultima Che è Monza Bologna Monza Che giocherà Per lo shock Di Pablo Marie Si pensava Che la partita Si potesse rinviare Invece la Lega Ha scelto Di Non rinviarla Monza Che viene Da una brutta Sconfitta Con Milan Si trova A 15esima 10 punti Il Bologna Che è sopra Però Per differenza Rete avanti Sono pari punti 10 punti Questa partita Finirà X Questi Sono i miei pronostici Di questa giornata Di serie A Vediamo Quante Ne azzeccherò Cheयà Ciao Ciao Grazie a tutti